Io credo che la maturità, più che maturità nelle partite si vincono con qualità. Io credo che la maturità tutte le partite le stiamo dimostrando per quello che stiamo facendo prima e durante le partite, dopo una questione culturale. C'è una questione culturale che non è perché siamo primi che siamo già pronti su questo, è una continuità di questo, il successo non è solo interno ma esterno. Questo è una cosa che noi dobbiamo continuare a lavorarci. Per continuare a lavorarci, dobbiamo continuare a lavorarci in alto. Dopo una questione che ho anche risposto, che esserci prime, non ci può dare problema o responsabilità. Ci arriverà la gioia di pensarci, di vincere ci fa felici. Chi è su queste strade vengono di continuare. Grazie. Grazie. Grazie.